amici social dell'us città di palermo eccoci pronti per un nuovo appuntamento di rosa nero dj ospite di oggi luca fiordilino ciao luca benvenuto come stai bene 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 che bello vederti con questi colori rosa nero sono straordinaria allora senti sei pronto per fare il disjockey sì sì allora io ti consegno la cuffia tu mi concedi il pallone io divento calciatore ci provo tu diventi disjockey ci provo anch'io ci sentiamo le cinque canzoni preferite da luca fiordilino alla quinta posizione edy sheeran shape of you alla quarta posizione edy sheeran perfect alla terza posizione war republic no vacancy alla seconda posizione fettivo west side alla prima posizione play kp where is the low questa erano le cinque canzoni scelta dal nostro luca fiordilino mi sono piaciuto percorso senti qual è la prima cosa che fai prima di entrare in campo ascolto tanta musica ti carica allora ti concedo il pallone Luca fiordilino e forza palermo l'ho 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 la l'ho 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 l'ho